Ora vedremo un altro esercizio con ad esempio il file 17 Qui mi chiede di convertire le unità di misura perché erano unità di misura in inch e non centimetri Ditegli di sì Qui abbiamo una simulazione con una neve e due sfere Come detto precedentemente lui non può sapere che questo oggetto diciamo è un oggetto che ha una animazione Quindi quando noi abbiamo ad esempio questa neve adesso li cancello per fare velocemente l'animazione Noi possiamo utilizzare ad esempio anche massa fx Adesso vi faccio vedere come funziona Noi abbiamo già studiato massa fx facciamo una cosa molto veloce perché può essere utile questo massa fx Supponiamo che io creo delle sfere delle geosfere qualcosa le voglio far cadere in modo dinamico Quindi con delle proprietà di massa e velocità eccetera eccetera Senza dover creare delle animazioni che sono delle animazioni manuali perché dovrei prendere degli oggetti spostarli e così via Qui abbiamo un oggetto creato velocemente Vedete che è anche distorto qui sotto ma non importa quello che ci interessa è la parte qua sopra In massa fx noi possiamo decidere se gli oggetti sono degli oggetti che si muovono Quindi ad esempio dinamico cinematico eccetera eccetera Dynamic rigid object Quando dico dynamic rigid object lui applico massa fx lo possiamo fare anche comunque dai modificatori Mi dice questa è una geosfera questa è una forma convex Poi c'è anche una forma ad esempio sferica che possiamo utilizzare sugli elementi Se vogliamo diciamo creare degli involucri un pochino più veloci E poi abbiamo tutta una serie di elementi abbastanza complessi che ne abbiamo già studiato Ci sono i corsi di massa fx divisi in tre stadi Quindi i corpi rigidi 1, 2 ed il clot e anche i tessuti Li trovate sempre a listino e anche nel mio sito Questo è un oggetto statico Quindi è un rigid body La cosa che lui fa però subito è crea questa tipologia di forma Quando io faccio la simulazione e lascio cadere le palle Le palle vedete cadono in questo modo Quello che devo fare quindi è sempre andare a selezionare direttamente in questa locazione O diciamo ci sono dei tools anche però lo trovate anche qua La sua tipologia può avere una forma sferica Può avere una forma box Può avere una forma capsula Concave eccetera eccetera Non è detto che una forma Quindi una scelta sia la migliore Se gli oggetti attraversano la struttura Vuol dire che non funziona Quindi o andate su custom O andate ad esempio su original Original in queste versioni di 3ds max Visto che è la migliore Quindi se gli dico ad esempio original Eccola qua Ovviamente io non posso tenere un massfx Che non ha delle chiavi di animazione Nel senso che questo è un oggetto massfx rigidbody Non ha delle animazioni Noi ha delle chiavi Quindi io se sposto alla timeline non c'è niente Noi abbiamo visto che lo snove Lavora su oggetti che hanno chiavi di animazione E quindi Noi abbiamo la necessità Di andare a fare il bake Ad esempio all di tutta l'animazione Quindi bake all Lui cosa fa? Crea tutte le chiavi di animazione Per quelli che sono gli oggetti in movimento Quindi adesso questo oggetto Ha una chiave di animazione Eccetera eccetera Lui mi tiene sempre le proprietà Del massfx rigidbody E così via Ma io potrei anche Convertire questi oggetti Come oggetti poligonali A questo punto Perché quando io faccio il play L'animazione c'è La differenza è che questa è un'animazione Che è fisicamente Come dire corretta Perché tiene in considerazione Le nostre proprietà Di collisione Rimbalzo eccetera Cosa che manualmente Non si riesce a fare